Buongiorno, vorrei denunciare un furto. Muy bien, siéntese aquí por favor. Cuénteme che ha pasado. Allora, sono italiana e sono venuta in Spagna per trovare un'amica che studia qui, a Vigo. Ma il mio aereo è atterrato a Santiago e per un paio d'ore ho dovuto aspettare un autobus. Quindi sono andata in un bar, ho preso una tazza di tè ed ho appoggiato lo zaino sul pavimento, vicino ai miei piedi. Quando ho deciso di andare, però, lo zaino non c'era più. Así que no hubo violencia ni intimidación, verdad? No veo usted a nadie sospechoso? No, no he visto chi è stato. No he notato cuando es sucedido. Puede decirme esattamente en qué lugar ocurrió l'urto? Certo. Ero in uno Starbucks fuori dalla stazione. Ho chiesto al cameriere se avesse visto qualcosa o se le telecamere di sicurezza avessero registrato. Ma mi ha risposto di no. Mi ha detto che non avevano nemmeno le telecamere. Bueno, come non hai pruebas suficientes per imputare al culpable, vamos a rellenare un formulario di denuncia. Deme un secondo. A cosa serve questo modulo? Cioè, poi cosa succede? Pues es básicamente para que conste y para tener sus datos en caso de que aparezca alguna de sus pertenencias. Díame su nombre completo, por favor. Mi chiamo Alessia Ostuni. A-L-E-S-S-I-A O-S-T-U-N-I Alessia Ostuni. Perfetto, señorita Ostuni. Ora necesito su numero di identificazione, su direzione e un telefono di contatto. Va bene. Il numero della mia carta di identità è 65 84 23 3 e K. Il mio numero di telefono è 0039 353 134 4511. E vivo a Firenze, a Residence dell'Università, in Viale Giovanni Battissimo Orgagni 55. Bien, describami su mochila. El color, el material, el tamaño. E' uno zaino piccolo, in pelle nera. Digami ahora, una por una, todas las pertenencias que tenían ustedes en la mochila. Allora, mi faccia pensare. Il portafoglio con il passaporto, la carta di credito, la tessera a studenti, la tessera della lavanderia e 100 euro in contanti. Ya ha blocchiato la tarjeta di credito, no? Sì, sì, è stata la prima cosa che ho fatto. Perfetto, sigamosse entonces. Com'era la cartera? E' marrone, in pelle. Ajá, aparte de su cartera, ¿tení algo más en la mochila? Sì, ho perso anche la mia macchina fotografica, una Canon piccola e nera, e gli occhiali da sole. Algún medicamento? Oh, sì, il mio inalatore. ¿Y su teléfono? L'ho con me, per fortuna lo stavo usando mentre ero al bar. ¿Así que es todo? Sì, penso che sia tutto. Pues le entrego ahora una copia de la denuncia, y sepa che vamos a orir una investigación y hacer lo que esté a nuestras manos para encontrar su mochila. Grazie, le sono davvero grata. Di solito, ritrovate quello che è stato rubato. Bueno, al no haber pruebas, le advierto que las posibilidades de que aparezca son escasas. Aunque a veces el delincuente se lleva el dinero y los objetos de valor y deja la documentación. Así que mantenga la esperanza. ¿Cosa posso fare nel caso en que no se ritrovi? Domenica, devo prendere l'aereo per tornare in Italia, y no puedo partir sin el passaporto. È certo, lo che tiene che fare ora è andare alla embattata italiana in persona e llevarà il formulario di denuncia, suo billetto di avion e una foto tamaño carnet. Allì le haranno un salvoconducto per poter viajar a Italia. All'ambasciata, ma non è a Madrid? Sì, me temo che sta in Madrid. Puede llamar por telefono, si quiere, para que le confirme el procedimiento, pero estoy segura de que tiene que ir en persona. Va bene, la ringrazio molto per l'aiuto. No hay de qué, nos pondremos en contacto con ustedes y recibimos buenas noticias. Lamento si su viaje a España no fue muy placentero. Sì, beh, non è stato certo il mio miglior viaggio, pero la ringrazio di nuovo. Sì, beh, non è stato certo il mio miglior viaggio.